Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Una notizia sta rattristando il popolo dei social. Il famoso Cavaliere del Trono Over non parteciperà più alla trasmissione I fan sono rimasti di stucco, ma perché ha preso questa decisione? Le motivazioni dietro al suo addio, non sono state chiarite ma, si sospetta che abbia dei problemi di salute Uomini e donne, il famoso Cavaliere del Trono Over non parteciperà più Uomini e donne sta per tornare. I cavalieri e le dame del Trono Over, come anche i nuovi protagonisti di quello classico sono pronti a registrare le puntate della prossima stagione che andrà in onda a partire da settembre Secondo indiscrezioni i telespettatori rivedranno seduti tra le file del parterre maschile ed o quello femminile, Ida Platano, Armando Incarnato e Gemma Galgani In tanti si domandano se ci sarà anche Riccardo Guarnieri, si è poi vociferato circa la presenza della bellissima Federica Versano, ma per avere la certezza che ci saranno è necessario attendere la messa in onda delle nuove puntate, ma chi è il Cavaliere che con molta probabilità non parteciperà più? Trono Over, chi è il Cavaliere che non sarà più presente nel parterre maschile di Uomini e Donne? Una notizia ha fatto velocemente il giro dei social nelle ultime ore Pare infatti che il simpaticissimo Luciano, Cavaliere del parterre maschile, divenuto celebre per i suoi balletti non ci sederà più tra le file del Trono Over Il signor Luciano ha acquisito una certa popolarità nel corso della trasmissione C'è posta per te, per poi approdare ad Uomini e Donne dove ha fatto divertire il pubblico grazie ai suoi balli e dal suo ritmo travolgente Nonostante i suoi 90 anni è davvero tanto energico e gode di buona salute, ma pare che il medico il suo medico e la stessa redazione abbiano concordato di far terminare la sua avventura all'interno del programma, per salvaguardare la sua salute Punto grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nel video Ciao e ci vediamo nel video